Questo video riguarda i migliori tre congelatore a pozzetto. Il vincitore della qualità è il Whirlpool WHS2121. Congelamento rapido, permette di abbassare velocemente la temperatura del freezer in modo da congelare i cibi o produrre ghiaccio in tempo di record. Controllo semplice, questo congelatore Whirlpool è dotato di un'interfaccia elettronica intuitiva, pensata per regalarti la più semplice e soddisfacente esperienza utente. Sfruttamento ideale dello spazio, questo congelatore Whirlpool dispone di un comodo cestello che ti consentirà di riporre ordinatamente confezioni, scatole e sacchetti di cibo congelato. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è l'ISENSE FC184. L'aria fredda viene immesa dal basso verso l'alto formando una spirale che abbraccia tutta la superficie interna del freezer. Questo garantisce una temperatura omogenea in ogni angolo e una congelazione più rapida. IISENSE non si concentra solo sugli utenti ma anche sull'ambiente. In caso di mancanza di corrente, il freezer mantiene la temperatura interna al disotto di 0 gradi fino a 135 ore. Grazie all'utilizzo di cerniere ultra piatte in metallo e dall'elevata resistenza, la durata nel tempo e l'efficienza di apertura è assicurata anche negli utilizzi più frequenti. La porta dei congelatori ISENSE è facile da aprire e rimane aperta da sola se lasciata in un angolo compreso tra i 30 e i 60 gradi. Per la migliore organizzazione dello spazio interno è possibile spostare o rimuovere i cesti interni del freezer. Il vincitore del premio è il quinto Peacock congelatore verticale. Il congelatore piccolo non occupa spazio, ma ha una pratica capienza di 31L, che soddisfa le esigenze delle famiglie. Congelatore ha un elegante aspetto nero, in linea con lo stile moderno, il congelatore è molto adatto per uffici, camere da letto, cucine, ecc. Il freezer a pozzetto può essere regolato in 7 intervalli di temperatura, in modo che l'intervallo di temperatura sia controllato da meno 14 gradi centigradi a meno 20 gradi centigradi e il controllo della temperatura sia accurato. Il design delle porte reversibili di congelatori verticali può soddisfare le esigenze di apertura delle porte in diverse direzioni. La maniglia nascosta adotta un design ergonomico, pratico e non graffia le mani. Il congelatore utilizza compressori di alta qualità per fornire una forte potenza, in modo che il freezer a pozzetto possa funzionare a basso rumore pur essendo efficiente e a risparmio energetico, non disturba il sonno ed è comodo e confortevole. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.